Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono FaroTube e oggi siamo qua con un nuovo video. Quest'oggi andiamo a vedere un tutorial ma soprattutto un tool molto pratico e utile da utilizzare che è quello che vedete in primo piano sul banchetto che ci servirà per eseguire lo spurgo dei freni in maniera quasi del tutto automatica. Prima di iniziare col video vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video e di attivare la campanellina che ci troverà di fianco al tasto iscriviti. Se il video vi è stato utile lasciate un like che è sempre ben accetto. Bando alle ciance e iniziamo! Bene, come indicato allora nella premessa del video, oggi andremo a vedere questo tool che ho deciso di acquistare e questo tool ci permette di eseguire lo spurgo dei freni in maniera quasi del tutto automatica. Se vi ricordate ho fatto già diversi video in cui facevo vedere varie metodologie per eseguire uno spurgo corretto, sia quello utilizzando la depressione creata da una siringa, quindi per riempire completamente il tubo ed eseguire poi anche lo spurgo, sia il classico metodo del tubo con avvita e svita il dado. Voi mi direte perché allora hai deciso di passare a questo tool? Allora, ho deciso di passare a questo tool perché sempre più spesso mi capita di fare lo spurgo. Quindi se mi capitasse una o due volte l'anno direi va bene, va bene lo station, insomma facciamo col metodo normale. Ma siccome voglio sempre ottimizzare di più il mio tempo e cercare di fare sempre un lavoro fatto bene, ho deciso quindi di passare a questo tipo di tool e vedere se effettivamente fa quello che promette. Come dicevo con questo tool farà tutto in automatico, ci sarà solo bisogno dell'ausilio del compressore e è stato pensato principalmente per essere utilizzato sulle auto, in quanto avendo quattro pinze è molto più difficile riuscire a sincronizzare il lavoro. Per quanto riguarda invece le moto e gli scooter che è ciò che trattiamo noi, la cosa non è assolutamente necessaria ma ripeto è veramente molto molto utile. Poi per quello che costa insomma ho deciso di fare l'acquisto e di provarlo. Iniziamo a vedere di che cosa compone la confezione e come funziona. Allora, nella confezione andiamo a vedere subito la parte principale che altro non è che questo serbatoio che si può svitare qui dal tappo nero con questa pistola da attaccare chiaramente al compressore con il suo attacco rapido e questo tubo. Brevemente, come funziona? Funziona semplicemente attaccando il compressore che spingerà chiaramente l'aria una volta che andremo a laszionare la leva. Verrà creata una depressione all'interno del nostro vasetto e quindi succhierà tutto l'olio proveniente dalla vaschetta. Così facendo sarà impossibile che dell'aria entri anche dalla vite di sfiato del nostro impianto frenante e vada all'interno del nostro tubo. Quindi comunque faremo uno spurgo assolutamente perfetto. In più, tutto l'olio verrà recuperato all'interno della vaschetta. Quindi, se abbiamo appena installato dell'olio nuovo e fresco lo potremo tranquillamente andare a recuperare. Che non è cosa da poco, in quanto tutte le volte che si esegue lo spurgo spesso o ventieri capita di buttare via quasi la metà dell'olio che si è utilizzati per poter andare a eseguire lo spurgo. Quindi, come dicevo prima, per chi lo fa abbastanza frequentemente che può essere anche solo una volta ogni 2-3 mesi io lo consiglio vivamente questo tool. Ma andiamo poi chiaramente a vedere il tubo che è qui, che è in silicone e anche molto morbido con il suo attacco che chiaramente andrà infilato come utilizzavamo nei vecchi tutorial del tubo normale nella vite di spurgo. Quindi quella vitina che andremo ad aprire e chiudere per eseguire lo spurgo. In più, questo chiaramente è il pezzo principale ci viene dato anche questa borraccia possiamo chiamarla così con un rubinetto che andremo a collocare a testo in giù sulla vaschetta. Questo ci permetterà chiaramente di non andare mai a finire il liquido all'interno della vaschetta affinché entri aria. Quindi noi potremo andarlo a riempire completamente d'olio e lo metteremo a testo in giù sulla vaschetta e lui continuerà a mantenere il livello stabile all'interno della vaschetta mentre il nostro signorino succhierà tutto l'olio. Ci vengono dati come cose aggiuntive chiaramente un'altra parte di innesto per la vite dell'impianto frenante come quella. Ci viene dato questo che chiaramente andrà inserito qui sulle due gomme una questa e l'altra sulla gomma. ma questo chiaramente è già fatto quindi lo vedete ma è la medesima cosa. Ci verrà dato questo che sinceramente non ho capito a che cosa serve. Se qualcuno lo sa scrivetemelo nei commenti a che cosa può servire questo aggeggio. E poi ci vengono date le quattro differenti presine da andare a utilizzare con il nostro biberon. Infatti sono filettate eccole qua quindi andranno avvitate qui e queste praticamente serviranno per tenere stabile e dritto il nostro biberon. Loro se andranno ad appoggiare all'interno della vaschetta d'accordo andranno ad appoggiarsi all'interno della vaschetta e terranno il nostro biberon perfettamente dritto e in posizione. Quindi il livello sarà perfetto. Quindi a vederlo così mi sembra veramente fatto molto molto bene. Adesso lo andremo a comporre e poi lo andremo a provare sul nostro amico lì in fondo. Bene siamo andati a riempire quindi con il nostro dot 4 il nostro biberon e siamo andati ad applicare come vi dicevo prima avvitando il nostro spessore che ci permetterà di tenerlo dritto all'interno della vaschetta. Vi dico anche una cosa potrete regolare avvitando o svitando più o meno quindi alzando o abbassando lo spessore la regolazione del livello vaschetta in quanto più andremo a portare vicino al buco il nostro spessore più il livello sarà basso più lo andremo a portare in alto quindi più sarà sfilato più il nostro livello all'interno della vaschetta sarà elevato. Quindi andiamo a posizionarlo nella vaschetta che è qui chiaramente il nostro tappo di sigillo è chiuso e lo andremo a collocare qua come vedete sta perfettamente dritto da solo ho anche provveduto a stendere un cavo come vedete per poter far sì che il manubro stia dritto e non si muova da solo una cosa che mi sono dimenticato di dire che è probabilmente la più importante per questo tool è che vi permetterà di eseguire lo spurgo completamente in autonomia da soli che è almeno nel mio caso la cosa fondamentale in quanto non ho mai o comunque non sempre una persona al mio fianco che mi può aiutare così facendo fa tutto praticamente in automatico in quanto altrimenti se dovessimo fare lo spurgo normalmente uno dovrà star sopra a pompare e uno dovrà star sotto ad aprire e chiudere bullone che vediamo qui e dunque bisognerà essere sempre in due per eseguire un lavoro fatto come ci deve ora andremo ad attaccare la parte sotto andiamo per prima cosa ad attaccare il nostro accessorio al compressore e vediamo che funziona poi andiamo a prendere il nostro attacco e lo andiamo ad attaccare sotto dove abbiamo vite di spurgo e gomma quindi farà perfettamente aderenza a questo punto andiamo ad aprire il nostro valvolino in quanto dovremo andare a riempire completamente il tubo se invece stessimo facendo uno spurgo prima sarà necessario azionare la leva e successivamente andare ad aprire e adesso andiamo ad aprire da sopra in alto per poter non perdere mai il livello dell'olio come vedete sono andato ad aprire la vaschetta e il suo livello dell'olio e vedete si è riempito perfettamente e siamo perfettamente a livello forse anche un pochino più in alto quindi potrei andare ad avvitare fino a battuta il nostro biberon a questo punto iniziamo a soffiare da sotto e un po' alla volta vedrete che l'olio inizierà a scendere pian pianino fino ad arrivare giù poi faremo lo spurgo con il nostro attrezzo ora che siamo andati a riempire completamente il tubo andremo ad eseguire lo spurgo ed è proprio in questa frangente di operazione che utilizzeremo il nostro amico chiave del 10 in questo caso per andare ad aprire e chiudere la nostra valvola di spurgo andiamo ad assenare prima di aprire il nostro sistema ok tramite la nostra leva e dopo averlo aperto andremo ad aprire lui in automatico succhierà prima di andare a chiudere quindi prima di mollare la leva è importante andare a chiudere altrimenti se noi molliamo prima la leva andiamo a chiudere un po' di aria potrà rientrare all'interno seppur poca insomma è meglio evitare quindi asseniamo e andiamo ad aprire facciamo questa operazione 3-4 volte e poi ci fermiamo e andiamo a sentire la leva se è spurgata bene dopo aver eseguito la nostra operazione ben 4 volte quindi molto velocemente abbiamo ottenuto questo risultato la leva è perfettamente spurgata quindi il nostro impianto non presenta più bolle all'interno infatti si tira fino a qui come prima cosa e non fa la classica frenata spugnosa come vedete sto tirando con tutta la mia forza di quando appunto c'è dell'aria all'interno quindi comunque con il nostro testo abbiamo fatto il tutto in 5 minuti veramente molto molto comodo e veloce dunque per concludere il video direi che l'attresso è faro approved oltretutto vi faccio anche vedere l'olio che abbiamo recuperato quindi spurgato che andremo poi volendo a riutilizzare per una successiva volta se è pulito come in questo caso lo spurg è stato effettuato con successo nel migliore dei modi come vi ho già mostrato se vi interessa questo kit riesco chiaramente a produrlo quindi basta che mi scrivete nella mail lascerò la mail in descrizione e anche nei commenti in cui potrete scrivermi e riuscirò insomma a farvi avere e vi dirò dove ho acquistato questo tool che trovo veramente veramente molto molto comodo e ve lo consiglio prima di lasciarvi col video vi ricordo di iscrivervi al canale trovate il tasto iscriviti sotto al video e di attivare la campanellina se il video vi è stato utile lasciate un like che fa sempre piacere insomma a me che ho dovuto creare il video e montarlo insomma per potervi far vedere qualcosa di nuovo da Farotube e dallo zippone e dal nostro nuovo tool per lo spurga freni è tutto un saluto alla prossima iscriviti al canale